Alessandra Bazzardi è, nonostante l'età, sempre una ragazza perché cerca sempre di provare delle nuove avventure, trovare nuove avventure e cacciarsi sempre nei guai. Ha entusiasmo, una laurea in lettere classiche in greco che, ahimè, forse ricorda pochissimo, un'iscrizione all'albo dei giornalisti, una carriera di direttore editoriale, editor oltre 23 anni, adesso è un agente letterario alla sua agenzia e quindi fa un po' improprio quello che prima faceva nella casa editrice. Sì, come dicevo, una persona che ci crede, ha passione, però molto spesso finisce per dire sempre di sì, quindi per cacciarsi sempre nei guai. Il libro che mi ha cambiato la vita, direi il genere che mi ha cambiato la vita, perché se io non avessi fatto quel colloquio, quel colloquio con una grandissima casa editrice di romanzi rosa, forse non ne avrei letti così tanti, ne ho letti nella mia vita e mi sarei limitata a orgoglio e pregiudizio o ad altri classici, ma non avrei apprezzato proprio il genere. Invece la mia vita da quel momento ha preso proprio una svolta, una svolta rosa e soprattutto io sono stata catapultata proprio nel mondo dei libri in cui ancora navigo e nuoto ancora molto felicemente. Quindi insomma direi che il genere rosa più che altro mi ha cambiato la vita. Il mix è un mix tra un editor, quindi un talent scout, una persona che ama cercare e trovare l'autore da lanciare, il romanzo originale da proporre alle case editrici e in questo poi deve assolutamente essere un bravissimo venditore, perché deve convincere l'editor che ha di fronte ad acquistare il romanzo o il testo perché è il migliore in assoluto. Deve però anche essere un allenatore, perché molto spesso l'autore ha dei momenti di entusiasmo e quindi che vanno un po' frenati e momenti invece di down che vanno invece assolutamente accorciati. E poi deve essere un buon avvocato perché deve portare a casa le migliori condizioni contrattuali per il proprio assistito senza esagerare e poi assicurarsi che tutto venga retribuito come dà contratto. Insomma, deve rimboccarsi le maniche perché non è mai finito il lavoro e ne inizia sempre uno dopo. E soprattutto deve essere pronto perché se arriva la telefonata di una casa editrice che ti dice se hai quel determinato titolo per quel determinato genere, tu devi dire, beh, ovviamente poi devi chiamare un autore e dire, oddio, mi devi subito scrivere un titolo che vada bene per questa casa editrice. Vabbè, senza scherzare, però insomma, l'agente letterario è un pazzo.